Buongiorno a tutti ragazzi, buon primo novembre a tutti quanti. Io avevo un bel pranzo oggi, spero che sia stata una giornata piacevole di festa anche per voi, però non è soltanto una giornata di festa perché è anche una vigilia di partita, dato che la Juventus domani giocherà contro il PSG una partita che sulla carta è abbastanza inutile per noi lato Champions League, anzi completamente inutile per noi lato Champions League diventa importante, chiave qualificazioni invece in Europa League. Lo so, non è granché, anche io vorrei essere qui a dirvi cazzo domani ci giochiamo una finale da dentro fuori contro il Paris, purtroppo le cose sono andate male, è peggio del previsto e quindi dobbiamo tra virgolette accontentarci di quello che sarà lo spettacolo che andrà ad offrirci una partita con tanti giocatori di livello. Io ho avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di poter assistere a PSG Juventus al Parco dei Principi ed è stato veramente bellissimo. Intanto lo scenario, la cornice del pubblico parigino è in seconda battuta vedere così tanti giocatori di qualità in contrapposizione alla mia Juventus e quindi domani chi sarà lo stadio? Beh, beati voi perché sarà veramente una gara di livello nonostante tutto ed è sempre bello secondo me andare ad affrontare giocatori così incredibili, non ci saranno tutti nemmeno per il Paris, è giusto così, è normale che sia così, ci saranno disqualificati anche chiave Juventus, ci saranno tanti infortunati chiave Juventus, cerchiamo di fare anche un bollettino di guerra. Prima di tutto vi invito a scaricare il numero 10, trovate il link per l'applicazione qui sotto in descrizione, completamente gratuita, proprio ieri ho pubblicato un video sul numero 10, quindi andatevelo a vedere nella sezione media, cercate sotto il punto di vista influencer e andate a vedere il video che ho pubblicato proprio ieri, completamente gratuita, sono contenuti esclusivi che vengano pubblicati. e io direi di iniziare perché c'è una doppia conferenza da commentare, quella di Quadrado e quella di Allegri. Quadrado dice siamo una grande squadra, dobbiamo scendere in campo con motivazione e rabbia per non aver raggiunto l'obiettivo, questa partita ci darà la forza di raggiungere un posto in Europa League, speriamo che possa essere così, io sono del partito del volersela giocare anche l'Europa League, anche perché quest'anno è un Europa League anche di livello, con tante squadre che si sono qualificate l'anno scorso nei campionati o che sono scese dalla Champions, quindi mi piacerebbe delle due andare a giocare l'Europa League piuttosto. Poi non lo so, ognuno ha la propria idea. Normalmente i giovani aiutano, ma in campo anche noi e il mister Rostaff facciamo sì che possano essere tranquilli. Nell'ultima partita il loro ingresso ci ha dato una grande mano, ma serve che tengano i piedi per terra per fare il meglio con la squadra. Stiamo facendo tante belle partite. Qua ho avuto un saltello sulla sedia, dice Quadrado, poi elencherà anche un paio di partite e ho fatto un altro saltello. In alcune ci è mancato qualcosa in più, ma sono cose che vengano dal campo giorno dopo giorno. Servono voglia, fame e determinazione che abbiamo sempre avuto. Stiamo cercando di dare il nostro meglio in allenamento e in partita troveremo nuovamente quello spirito Juventus. È positivo che nell'ultima partita di campionato abbiamo fatto ottimi risultati. Questo è il cammino da seguire. Ho voglia di giocare. Mi metto a disposizione del mister per aiutare la squadra. Il mister sa dove mi piace giocare, ma in emergenza dobbiamo essere sempre a disposizione per aiutare la squadra. Non è quello che mi piace, ma quello che serve in quel momento. Normalmente, quando sei abituato da un periodo da giocatore importante, c'è responsabilità. Quando le cose non vanno così bene, ci si dimentica invece di quello che si fa di solito. Cerco di non ascoltare quello che dicono e provo a dare il meglio per la squadra. Segno che comunque lui stesso sa che in questo momento non sta dando il 100% a quello che ha sempre dato. E infatti poi dice, stiamo lavorando su quello, so che posso dare di più. Se lavori ed hai sempre il tuo 100%, prima o poi arriveranno anche le belle prestazioni. Sono sempre molto contento di essere qui. Anzi, siamo sia io che la mia famiglia. Ho fatto qui gran parte della mia carriera professionista. Sono sempre grato alla Juve. Cerco di andare avanti, poi in futuro si vedrà, perché il contratto di Quadrado, ricordate, è in scadenza all'anno prossimo. A volte ci sono partite che magari stai giocando e devi fare un punto della situazione. Ci troviamo in situazioni in cui scambi di posto con un compagno e serve a sapere cosa si fa. Io questa risposta non l'ho capita. Era una domanda inerente al cerchio che si fa prima delle partite, in cui ci si dà la forza. Veramente non ho capito la risposta di Quadrado. Dice, sappiamo che i giocatori che sono fuori sono importantissimi di qualità. Sicuramente ci darebbero una grande mano in questo momento. Speriamo di averli il prima possibile. Tutti insieme possiamo aiutarci a portare la Juve dove è sempre stata. E poi qua dice, belle partite. Mi viene in mente quella con la Roma, che anche a me è piaciuta, o quella col Benfica in casa. No, cioè proprio minimamente no. Almeno i primi 20 minuti sì. Però la partita si valuta sui 90. Non abbiamo saputo concretizzare. Quando giochi bene e vinci non se ne parla tanto, ma se giochi male e perdi. Se giochi male e perdi, è giusto prendersi le critiche, secondo me, per quello che è il mio modo di pensare. Poi ognuno è libero di essere in disaccordo. Abbiamo tempo per migliorare e cercare di essere nei primi posti dove siamo abituati ad essere. Però per arrivarci non è che se sei abituato ad esserci ci arrivi. Per arrivarci bisogna lavorare in un certo modo. E ascoltare anche quello che dice il campo, secondo me. Perché altrimenti non si va da nessuna parte. Poi dice, quando succedono queste cose addirittura è difficile dormire. Perché pensi alle cose del perché accadono. Dobbiamo avere la forza di una grande squadra. Abbiamo una partita importante per la qualificazione in Europa League. Dobbiamo mostrare voglia e determinazione come un campionato. Serve il 200%. Allora io sono assolutamente di idea che servono. Voglia, determinazione, entusiasmo. Queste cose servono. Sono componenti essenziali. Non nel calcio, nello sport e nella vita. Però non bastano quelle. Cioè, quelle sono una parte. Però il lavoro deve essere fatto sul campo. Se no, invece con l'allenatore mettiamo uno psicologo. E diciamo che bisogna essere forti, determinanti, vogliosi. Invece no, sul campo ci sono delle situazioni che si presentano. E dobbiamo essere pronti a gestire anche quelle situazioni. Cioè, non basta la forza e la determinazione. Quando fai calcio a mercato non scegli un giocatore determinato e basta. Scegli un giocatore che ha delle caratteristiche tecniche di un certo tipo. Perché se no, non ha senso. Non dico che non servono. Servono tantissimo. Ma non è quello lì l'unico focus da tenere a mente. Poi parla Allegri. E dice, per domani non recupera nessuno oltre a Locatelli. Beh, mister, buongiorno anche a te. Buon martedì. Grazie per le belle notizie. Anzi, ne perdiamo uno perché Danilo è squalificato. Ottimo. Quindi la formazione, secondo me, bene o male si farà da sola. Ne parleremo eventualmente nel video di domani. Dice, abbiamo giocatori importanti. Giocherà anche qualche giovanotto che ha giocato a Lecce. Domani è importante. Questa è una conferenza strana perché è la prima che faccio senza poter passare il turno della Champions. Domani è decisiva per l'Europa League. Dobbiamo provare ad andarci. È bella e importante. Ed è sempre Europa. Serve una partita giusta. Io sono d'accordo. Non che sia bella e importante perché, devo dire la verità, dell'Europa League mi importa decisamente meno. È sempre Europa sì ma no. Però dobbiamo provare ad andarci. Sono d'accordo. Assolutamente sì. E infatti mi auguro che la Juventus non vada a snobbare completamente questa partita focalizzandosi sull'Inter di domenica. Secondo me sarebbe un errore grande. Dice, credo che Messi sia sempre stato il migliore al mondo. E qui una bella frecciatina Cristiano Ronaldo. Infatti ricordo che all'epoca il club non aveva voluto rispondere a questo confronto, non aveva voluto rispondere a questa domanda. Oggi risponde di sua spontanea volontà. Quindi questo è palesemente una frecciatina Cristiano Ronaldo, 100%. Per lui questo è un anno straordinariamente importante tra PSG e Mondiale. Sono gli ultimi anni della sua straordinaria carriera. Poi dice, mi brucia tantissimo non essere riuscito a passare il turno. Sono molto arrabbiato e dispiaciuto. Non potersi confrontare da marzo in poi con i migliori d'Europa deve creare rabbia e stimoli. Serve una reazione come quella che abbiamo avuto a Lecce. Io a Lecce non ho visto una gran reazione, ho visto un secondo tempo in cui si è spinto di più perché si era 0-0 contro una squadra che doveva salvarsi. Semplicemente in una reazione a Lecce faccio fatica a vederla. E anche il discorso della rabbia e degli stimoli è quello che facevo prima. Sì certo servono, sono molto importanti. Però serve anche qualcos'altro. Poi dice, in campionato abbiamo tre partite molto difficili. Beh, Lazio e Inter sicuramente con la collella si è un po' più tranquilla. Sulla carta poi perché per questa Juve sono tutte partite da tripla. In Champions abbiamo fatto bruttissimi risultati. Eh sì, è per quello che diciamo che è un fallimento. E ti fa vedere risultati di campionato più negativi di quanto non lo siano. Allora sicuramente in campionato potrebbe andare peggio. Perché comunque si è al settimo posto. Ma non sta andando nemmeno bene. Perché comunque si è al settimo posto. Quindi non è che guardiamo i risultati più negativi di quello che sono. Cioè per la Juventus essere al settimo posto a novembre non è una situazione bella. Non è una situazione accettabile. Non è una situazione da festeggiare. E lo dice anche Quadrado stesso. Dice non ci dormono la notte quando succedono queste cose qui. Quindi non è che siano scemi, siano matti. Cioè è questo, ma lo sa anche Allegri. Perché poi fa un discorso che condivido al 100% e che va a smentire questa sua stessa frase. Quindi è questo cercare di coprire il momento cercando di... Eh vabbè dai, alla fine non va nemmeno così male. Però lui stesso sa che in realtà sta andando malissimo. Nonostante in Champions si è fatto peggio di in campionato. Questo è un dato rifatto, ma non significa che in campionato poi si è fatto bene. Sono due cose diverse. Poi dice quest'anno con tante partite compresse si è alzata la media infortuni. Quando parti con tre giocatori che sono fuori dalle competizioni. Non è tanto i tre che sono per livello. Quanto più affrontare poi 21 partite con giocatori che sono obbligati a giocare. Per dire McKennie ha giocato 15 partite. Anche se, con l'allegato davanti, ne avrebbe dovuto giocare di meno. Iling ha subito un'entrata meno grave del previsto. Perché con la cavigliera sotto rischiava comunque tibia e perone. Ed è vero perché è stata un'entrata maledettamente fuori tempo. Abbiamo avuto infortuni muscolari che ci stanno. E molto probabilmente abbiamo sbagliato noi qualcosa. Ma se sono traumatici, non possiamo farci niente. Già il fatto che a Lega di che abbiamo sbagliato qualcosa sotto il punto di vista degli infortuni muscolari è una vittoria. Perché cazzo è evidente. Io continuo a leggere gente che continua a dire No, non è vero, non c'è un problema di infortuni a eventus. Ma stiamo scherzando e stiamo dicendo davvero. Traumatici davvero non ci puoi fare niente. Ma i muscolari? Anche lì può essere sfortuna. Ma se capitano tutti a te nella stessa annata Hai sbagliato qualcosa. E c'ha ragione allegra a sottolinearla. Sta cosa è giusto che la dica. Lunedì per l'Inter avremo a disposizione, credo, Di Maria e Bremer. E in teoria per le ultime due anche Paredes e tutto procederà per il meglio. Io su Di Maria e Paredes sono un po' più cauto. Sono un po' più negativo. Vediamo se sarà così. Con gli altri invece ci vediamo a febbraio. Bene. Fantastico. A gennaio, febbraio è quello che sarà. Poi dice no Vlaovic domani non è a disposizione Ma speriamo con l'Inter. Vlaovic non è a gennaio E' uno dei tanti infortunati che ho E ogni tanto me ne scordo qualcuno. Ne abbiamo veramente troppi. E poi inizia una chiacchierata che non finiva più Veramente non finiva più sul discorso giovani E qui ci sono stati dei momenti in cui dicevo Cazzo se hai ragione E dei momenti in cui dicevo Ma che cosa stai dicendo? Perché dice Appena è finita la partita di Lecce La mia preoccupazione è stata questa Da un lato c'è un aspetto negativo Che vengono esaltati da tutti i giovani E poi dice come giusto che sia Quindi allora non è un aspetto negativo Se vengono esaltati Però è giusto Cioè già questo Dice Un ragazzo di vent'anni catapultato nel mondo Juve Non è facile E qui sono assolutamente d'accordo Poi dice Stamattina mi sono segnato tutti i giovani della Juve Sono una quindicina dal 2001 al 2003 Barra 2005 Tranne il 23 primavera E' normale Che non possiamo pensare E credere che un ragazzo Che non ha esperienza di partite nazionali E internazionali Possa oltre che portare entusiasmo Spenseratezza Ed energie positive Risolvere anche i problemi della Juve Io qua sono assolutamente d'accordo Perché Un conto è una partita Non specifico Ma pensare che mi possano salvare Una stagione intera O che mi possano giocare ad alti livelli Una stagione intera Magari qualcuno arriverà Magari ci sarà qualcuno pronto per dire Per me Miretti E' pronto per essere un giocatore molto presente all'interno di questa Juventus qui E' decisamente pronto E tante volte non me ne è capacito di vederlo fuori Di fronte anche a giocatori Come magari nel senso me Kenny Che dice ha giocato 15 partite Non è doveva giocare Tante volte mi sono chiesto Ma come è possibile E quindi sono d'accordo Cioè sarebbe decisamente troppo ottimistico Dall'altra parte però io aggiungo In un momento così disastroso come questo In un momento in cui comunque quelli che entrano Sono più giovani Meno esperienza Più energia Quello che volete Più spenseratezza Però poi Ti danno anche qualcosa in più dal punto di vista tecnico e tattico E allora lì non si parla più di un discorso di Eh non possiamo pensare che No in questo momento servono Poi vediamo come va a finire Questo è Anche perché Credo che in una stagione così disastrosa Il portarsi a casa Il almeno valorizzato un paio di giocatori Sia molto positivo Perché se no Ti porta a casa niente Anche quest'anno Come l'anno scorso E non è proprio E dice Serve un percorso Infatti lavorare in modo sereno e tranquillo Ma un percorso serve Io sono anche dell'idea Che si possano dare anche in prestito Non è un problema Però in Serie A È giusto che inizi ad andare in prestito in Serie A Ma il percorso può essere fatto anche internamente alla Juve Cioè Miretti non è andato via E il suo percorso lo può fare dentro la Juve Cioè non è detto che debba stare sempre in panchina Che giochi la prima parte di stagione e poi no Ma Lega c'è dalla risposta In questa intervista In questa conferenza stampa Ci spiega Perché Miretti ha giocato all'inizio e poi no E lì non sono d'accordo Sono 10-12 giocatori Oltre Rovella, Ranocchi e De Winter Che sono già in Serie A Ma i ragazzi del 2000-2003 Non possono portare la Juve a vincere Beh In realtà possono Cioè non vedo perché non possano farlo Può succedere come no Per quanto mi riguarda Dice Ci sono giocatori di esperienza e valore E altri che vanno inseriti pian piano È normale Allora che vanno inseriti pian piano Sì sono d'accordo Però vanno inseriti No? Perché ripeto Dopo arriveremo al perché Dice Già che possano stare in prima squadra Sembra che sono di valore Dobbiamo lasciarli in equilibrio Perché nella Juve Una partita Due partite Un mese O un anno Lo giocano tutti Però per giocare il secondo anno O tanti anni alla Juve Serve forza mentale e tecnica Sono discorsi diversi Che vanno oltre Alla singola tecnica Che un ragazzo può avere Serve forza mentale alla Juve Siamo una squadra unica in Italia A livello di pressioni Ci vuole pazienza In dieci minuti Non si diventa niente Qui sono d'accordissimo Perché un attimo Esaltare Quello che dicevo prima Il voler dire No questo è un fenomeno Questo è un campione Questo è destinato Questo deve giocare sempre titolare Questo non lo possiamo più togliere Per me Keep calm Perché un attimo Veramente bruciartelo Questo ragazzo È un attimo È un secondo È un istante Io mi ricordo Felix Afenagian L'anno scorso La doppietta al Genoa Con la Roma Il giorno dopo Titolo sul giornale A-fe-no-meno Ho detto ragazzi Ma non è questo il modo Di prenderlo No però Questo ha fatto Doppietta fantastico Qui e là È sala cremonese Venduto dalla Roma C'è Un attimino davvero Di equilibrio Nel giudizio Io leggo tanti Che mi stanno dicendo Sei troppo severo con gatti L'altra sera Ha fatto una partita Fatta bene Per me ha fatto Una partita fatta bene Ma se devo dirvi Che ha fatto La partita della vita Perché È uno più giovane Rispetto a Bonucci Non ve lo dico Non ve lo dico Come quando L'altro giorno Vi ho detto Oh a me sulle Fino adesso Non mi ha ancora detto Ma no non è vero Sule caratteristiche Fenomenali Prospettiva Ma quello sicuramente Ma se vi devo dire Che Sule Nelle apparizioni Che l'ho visto La Juventus Mi ha convinto Vi dico una bugia Mi ha rubato l'occhio Molto più Ealing In due o tre prestazioni Rispetto a Sule In sette Avrà giocato Non lo so Duecento minuti Con la maglia Juve Quindi non posso ancora Dare un giudizio definitivo Ma non posso nemmeno dirvi Che secondo me È il nuovo Di Balla Il nuovo Di Maria Fenomenale Incredibile Perché vi direi Una bugia Vi direi una bugia Non vedo il perché Dirvelo Solo perché è giovane Perché gioca la Juve E quindi una prospettiva Certo è una prospettiva Però la prospettiva Deve essere cullata Non deve essere Di diritto Per quanto mi riguarda Sempre Questa è la mia visione In assoluto E poi dice Quello che è accaduto a Lecce Va scordato Subito col PSG Va subito messo Tutto in discussione Verissimo E poi dice La Juventus Non è costruita Per obiettivi passeggeri Ma per obiettivi finali E ci si arriva tramite Gli obiettivi passeggeri Verissimo E per quello che Poi Quando esci dalla Champions Quello è un obiettivo finale Sfumato E allora è un fallimento Abbiamo fatto le partite bruttissime Allora è un fallimento Non si può non dire Va detto Perché la Juventus Si è costruita Per raggiungere degli obiettivi E quello è un obiettivo finale Perché la Champions Dopo domani sera Non la giochi più quest'anno E fa male Fa molto male Poi Il giornalista Inizia a fare la domanda E Allegri Avanti ai microfoni Perché dico Lasciamolo stare È uno dei pochi Che fino adesso Si può salvare Però Dall'altro invece Penso Allegri ha aspettato un attimo Il giornalista Ha iniziato la domanda L'ha fermato È tornato indietro E ha voluto aggiungere Questo pezzo Quando ormai La domanda era conclusa Allora mi faccio una Che cosa significa Perché l'ha fatto Ci sarà un motivo E allora mi viene da dire Miretti è quello che considera Più dentro Alla Juventus Prima squadra Più pronto in assoluto E quindi lo metto Sulla stessa lunghezza d'onda Dei calciatori Da prima squadra Con prova e contro L'anno scorso Per dire C'erano tante partite In cui Bernardeschi Continuava a non fare Il suo Rugani continuava A non fare il suo E Allegri in conferenza Lì lo dava Lo stesso Ken Tante volte Andava su Kennedy Anche quest'anno Ah sì Molto bravo Fa delle buone partite Non voleva parlare degli altri Voleva dare la carota Ai calciatori più in difficoltà Su Miretti Ha usato il bastone Perché? Perché Allegri Di solito Quando riprende un giocatore È perché lo sta convincendo E lo vede più pronto Rispetto a quegli altri Perché sennò Di solito Usa la carota Il bastone Lo usa sempre Solo quando Su quel giocatore Ci crede E questa È una buonissima notizia Secondo me Perché lì poteva Semplicemente stare zitto E invece Su Miretti È voluto tornarci Per un altro tipo Di discorso Per fargli capire Che sei alla Juventus Se è un 2003 Non me ne frega niente Sei la Juventus La Juventus Se mi sbaglio Gli ultimi tre passaggi Negli ultimi metri Dove sei bravo Non va bene E allora devi tornare indietro Non l'avrebbe mai fatto Su Fagioli Non l'avrebbe mai fatto Su Sule Non l'avrebbe mai fatto Su Wheeling Non l'avrebbe mai fatto Su Gatti Non l'avrebbe mai fatto Nemmeno su Ken Sono giocatori più in difficoltà Rispetto a Miretti E su Miretti L'ha voluto fare E ripeto Da una parte Non mi è piaciuto Perché magari Gliele dici in faccia Dall'altra È un primo Immergerlo Davvero dentro Alle pressioni Della Juventus Perché Su Miretti Secondo me Ha un'idea Completamente diversa Rispetto a quegli altri Magari sbaglierò Ma secondo me Questa è la lettura Corretta Di Allegri Su Miretti Poi dice Se non c'è stanchezza Non c'è stanchezza C'è tempo per recuperare Domani c'è sold out Allo stadio Dobbiamo fare il meglio possibile Da giovedì poi Penseremo all'Inter Ok D'accordo E poi Allegri dice Alla Juventus Non c'è la possibilità Di far giocare Si rappresenta Una società Nata per vincere Un saluto a Nati per vincere Non andiamo in campo Per far divertire O giochiamo solo Con i giovani E quel che viene Tutto in più Oppure oggi I giovani sono importanti Perché hanno tecnica Ed energia Allora Io credo Però che in questo momento La Juve debba Accettare il fatto Che si sta andando In un'altra direzione La Juventus È nata per vincere Certo Assolutamente sì E infatti Quando non si vince la Juve L'anno è catastrofico È fallimentare Quando non si passa Il Gironi in Champions L'anno è fallimentare Sotto quel punto di vista E non ci si deve nascondere Bisogna ammetterlo E questa è una cosa Che proprio non mi va giù Questo volere sminuire No 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 Non sminuisce niente Fallimento Punto Tutto tondo Però dall'altra parte Oggi il calcio va in una direzione diversa E ci stanno andando tutte Perché il Milan Non è fatta per vincere Eppure è stata Tanti anni Che è stata lì E cosa succede? È preso un percorso più lungo Perché il Manchester United Non è fatto per vincere Però in questo momento Non sta vincendo Perché il Barcellona Non è fatto per vincere Il Real Madrid Non è fatto per vincere Tutte sono fatte per vincere Queste squadre qui Però dall'altra parte Sanno che oggi il calcio Va in direzioni differenti E allora bisogna anche rispondere L'Eventus lo sta facendo Benissimo Perché sennò Tutti questi giovani Non vengano fuori Tutti questi giocatori Di talento giovani Però poi bisogna anche Valutarli Come effettivamente Calciatore della prima squadra Come dicevo prima Per Miretti Perché poi Allegri C'è una cosa che non mi è piaciuta Per niente Ma proprio per niente Perché dice Sono in attesa Di altri giocatori Che devono recuperare E quindi giocano i giovani Oggi dobbiamo concentrarci Su quelli che abbiamo No 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 Questa cosa non mi va bene Perché I giovani Se sono forti Giocano E giocano anche Quando hanno recuperato I quelli più forti Ma non me ne frega niente Ma non me ne frega assolutamente nulla Se recupera Pogba domani E comunque fa peggio di Miretti Ma gioca Miretti Ma che gioca Pogba Perché si chiama Pogba Ma col cazzo Scusatemi eh Perdonatemi Questa cosa non esiste Non è che giocano oggi Perché gli altri Va a recuperare Se poi gli altri recuperano Giocano peggio E sono peggio Non me ne frega niente Gioca quello che dà di più In rotazioni E si meriterà di giocare di più Che quegli altri Ma giocherà a Fagioli Ma che cosa vuol dire Aspetto a quegli altri Ma non è vero sta storia Ma questa è una roba Completamente folle Secondo me Se prima vi ho detto No mi è piaciuto Sono stati ragionati Questa proprio non esiste Questa non ci può stare Nel calcio Il calcio È uno sport meritocratico Gioca chi se lo merita Per raggiungere gli obiettivi Ma mica per il nome Ma non scherziamo minimamente Per cortesia Ma proprio no Ma proprio no A Lecce è stata una partita Difficile e divertente Divertente Mi sterti giuro di no Non era facile giocare a Lecce In quel momento lì E questo è assolutamente vero I ragazzi sono stati sostenuti Con tranquillità Loro ci hanno messo Energia mentale e fisica Poi dice In alcune situazioni Potevamo fare meglio Ma a volte c'è anche la casualità Domenica Lucatelli non viene Perché aveva dei problemi a casa McKennie è morto A fine primo tempo Entra Fagioli ed è gol A volte si va oltre lo studio Però è quello che dico prima Allora perché Perché magari che Fagioli Poteva averti magari dato Qualche indicazione Negli allenamenti No gioca McKennie E non Fagioli Però McKennie si fa 15 partite di fila E dovrebbe farne meno Allora ci sono Fagioli Miretti Poi le facciamo fare A questi qua Dato che McKennie 15 di fila non doveva fare Invece no Lo facciamo veramente morire Arriviamo al punto che McKennie È cotto Stracotto Anche non in condizione Lo cuociamo E lo ristracuociamo Perché si chiama McKennie Perché ha più partite Ma no Ma dai Ma mister Questa roba qui Cioè qui non è un discorso Di studio Non studio Qui è un discorso Che Se ci sono delle rotazioni da fare Ci sono dei giocatori Che comunque Non stiamo parlando Del più scarso Degli scarsi Degli scarsoni più scarsi Cioè stiamo parlando Di un giocatore Che è lì Per un motivo Stiamo parlando Di un giocatore Che sei rimasto la Juve Ci sarà un motivo Dio santo Dio Cioè allora Non vedo il perché Dobbiamo distruggere McKennie E poi dire Vabbè adesso che McKennie è morto Può giocare a te Ma non esiste sta cosa Ma proprio questa cosa Mi dispiace Non esiste Non esiste Sono dispiaciuto Ad essere uscito Alla Champions Era un obiettivo Torno ancora sul discorso Mi dispiace Ci torno anch'io Lui continua Questo discorso Io lo continuo anch'io Allora Era un obiettivo L'abbia raggiunto o no Quindi un fallimento Mi dispiace Ci deve far riflettere Sull'occasione buttata In campionato Vediamo cosa succede Al fine delle tre partite Vediamo Perché ci sono Sti nove punti Da conquistare Saranno Complicati Poi Dice Chiesa momentaneamente Non è in condizioni ideali Di giocare una partita Sta bene Sta meglio Ha giocato giovedì scorso Poi ha avuto tre quattro giorni di recupero Io speravo di averlo prima Ma ad oggi non è così Lui è un giocatore Che spero di avere il prima possibile Come pensavo di Pogba Sono tutti giocatori importanti A volte succedono anche queste cose Vanno trovate soluzioni Per ovviare agli imprevisti Pogba Notizia di ieri Non andrà al mondiale Non andrà al mondiale Dovrà continuare questo percorso di recupero Sono un po' cattivo Ma lo devo dire Non sono dispiaciato Per Pogba Sono dispiaciuto Del non avere Pogba Ma se devo essere dispiaciuto Di Pogba Che non va al mondiale Beh Vi direi una bugia E voglio essere molto onesto con voi Perché Pogba ha scelto Questa strada Ha cercato di Di togliersi la possibilità Di recuperare In maniera adeguata Per andare al mondiale Perché quello era l'obiettivo E dato che non ti sia fatto Neanche un minuto Con la Juve fino adesso Secondo me è giusto Che non vai a farti il mondiale Dato che la scelta È stata tua Perché con l'operazione Quando era stata consigliata Ai tempi Sarebbe già tornato in campo Con la Juve E con il mondiale Lui ha voluto ragionare Soltanto in previsione Nel mondiale E questo è successo Quindi non sono minimamente Spiaciuto Per l'assenza di Pogba Al mondiale Sono semplicemente spiaciuto Di non averlo ancora visto In maglia Juve Perché sono davvero convinto Che Pogba Posso darci una grande mano Dall'altro chiesa Invece sono sollevato E tranquillo Che si stia utilizzando La misura della tranquillità Della prudenza Calma Veramente che se in questo momento Tutti sono disastrati Tutti sono rotti Tutti sono Sull'orlo della morte Praticamente Uno come chiesa Che è un anno che fermo Undici mesi che fermo Delle due Lo faccio star fermo Altri due mesi Dato che la Juve Adesso non giocherà Con calma Non voglio una ricaduta muscolare Non voglio una ricaduta Dal ginocchio Non voglio niente Voglio che chiesa Torni al 100% Forse anche al 101% Quindi va benissimo Che chiesa Non ci sia Nelle prossime partite Come al solito Sono andato a lungo Mi dispiace Tante persone mi dicono Che dovrei Abbreviare i video Che li faccio troppo lunghi Lo so ragazzi Lo so Mi dispiace Ascoltatevi come podcast Non so che altro dirvi Ma quando ci sono Tante cose da dire Tante cose da analizzare Conferenze Da sviscerare Da commentare Come si fa Andare piano Devo farlo Mi dispiace È l'unico video di oggi Quindi non vi rompo più Le balle oggi Potrete concentrarvi Solo su questo Ci vediamo domani Con la prova e la formazione E appunto Tutto quello che riguarda La partita Il post partita Le live reaction E i giudizi Un abbraccio ragazzi Buon primo novembre